ecco via entraiamo sul fianco lavoriamo con la gamba destra se preferite potete stare così con la mano sotto la nuca o altrimenti annucate il braccio e vi mettete in giro quindi scegliete voi la posizione che preferite le gambe sono piegate andremo ad aprire bene la coscia ma i piedi rimangono vicini quindi non alzo il piede il piede è vicino si va c, se, se, e altro per indietro la coscia cercate di tenere ferma la schiena e il braccio gli ultimi due ok riposso massaggio un pochettino la chiave ora facciamo la stessa cosa mentre voi riposate un secondo andremo ad aprire completamente la coscia e poi ritorno su andiamo c, se, 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 e salgo scendo due scendo su giù gli ultimi quattro ok riposso mentre voi vi riposate faccio vedere l'esercizio successivo voi riposate apro stendo piego e ritorno si va 4 3 2 andiamo salto stendo piego e giù ricordate sempre stiera ferma bacino in avanti e lo mandiamo indietro stiamo venire a basto specializzate stendere stessi 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 Ok, riposo. Ricordate quello che vi ho detto, il preferito è stato così, o altrimenti anche l'esercizio potete farlo come il preferito. Gamba tesa, piede a martello, la gamba è in linea con la schiena, non è indietro, non è avanti, siamo belli allineati, col piede a martello salgo e scendo. Ancora otto, la gamba di sostegno è sempre piegata. Ok, riposo. Cambiamo gamba. Quindi piego le gambe. Allungare bene la schiena o con la mano dietro la nuca o con il braccio steso a pavimento. Partiamo con questo. Andiamo. Vieto bene la coscia, spingo. Ok, riposo. E il terzo successivo era apro e ritorno giù. Andiamo insieme. Quattro, tre, due e andiamo. Andiamo. L'esercizio successivo invece prevedeva l'allungamento della gamba verso l'alto. Quindi piego, stendo, piego e scendo. Ci, se, se, e. E ritorno. Su. E ritorno. Piego, stendo, piego, ritorno. Ancora, ancora. Paracchio. Paracchio. Gli ultimi quattro. L'ultimo. E riposo. Gamba schietta. Salgo e scena. C, 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 E. Ancora otto. E riposo. E riposo. Resteviamo, facciamo il secondo stretching. Gamba destra. Sopra. Sopra. E mi allunga. Sopra. 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 Sopra.